Condizioni per la pace, sviluppo, sostenibile, conoscenze e mare. 5 i temi al centro del Forum delle Culture 2014 con 5 festival, 25 laboratori e 10 mostre. Quarta edizione per la manifestazione promossa dall'UNESCO, la prima organizzata in Italia, presentata ufficialmente a Parigi nei giorni scorsi. Archiviate le polemiche sul taglio delle risorse a disposizione, passate da 45 a 16 milioni, dei quali ben 11 soltanto per Napoli, il Forum è entrato nel vivo a 5 mesi dall'inaugurazione ufficiale del 18 novembre scorso a Napoli. Così come per le prime tre edizioni, obiettivo puntato sui siti UNESCO, in Campania, da Pompei ad Ercolano e poi ancora a Caserta, Benevento, il Cilento, Compestum ed Ascea. Tra le mostre più attese è quella del 21 aprile nel complesso museale di San Domenico Maggiore a Napoli, sulle macchine di Leonardo da Vinci, con un disegno originale estratto dal Codice Atlantico. Dieta Mediterranea è al centro invece del Festival dell'Evoluzione dell'Alimentazione, in programma a Pompei, mentre ad Ascea si svolgerà il Festival della Filosofia in Magna Grecia dal 7 all'11 aprile, giunto alla decima edizione, con passeggiate filosofico-teatrali, laboratori ed incontri di approfondimento anche nei centri limitrofi. A Pessum poi spazio al Festival delle favole matematiche delle fiabe. A Ercolano si approfondirà il tema della memoria. Una serie di eventi che per l'assessore regionale ai beni culturali Caterina Miraglia potranno contribuire a tenere accesi riflettori su siti UNESCO, in particolare su Pompei e Velia, dopo i crolli dei mesi scorsi. Noi abbiamo pensato di mettere in campo una politica che tenesse sempre accesa la luce sui nostri luoghi preziosi e quindi un'occasione come quella del Forum delle Culture, che nel caso di specie nostro con l'allocazione nei siti UNESCO prevede anche la presenza delle Nazioni Unite, ci dà quella garanzia di rendere assolutamente evidente il problema e la cura che si deve avere per i nostri luoghi, che sono sicuramente un unicum. La Regione Campania in questo senso non ha bisogno di potenziarsi perché ha già tutto, ha bisogno però di essere protagonista in un sistema di bellezza dell'Italia. Ha sottolineato le competenze, ha sottolineato le responsabilità, ma ha un po' di rabbia da parte come amministratore e come campana per come vengono tenuti questi beni stupendi? La rabbia è veramente in ognuno di noi perché vedere sciupate delle bellezze fa soffrire, quindi non so nemmeno se sia rabbia se non sia una profonda malinconia, però voi sapete che questo naturalmente è un discorso complesso, noi come istituzione dobbiamo essere solamente sempre molto attenti a fare la nostra parte e siamo certi che questo stiamo facendo perché prescindendo dalle nostre responsabilità abbiamo creato una condizione di vivibilità per i nostri luoghi.